Il papà di Carletto porta il bimbo a giocare al parco e gli dice Dai Carletto vai a giocare con gli altri bambini che papà legge qui il giornale sulla panchina Va bene papà, insomma Carletto va da questo gruppo di bambini e gli dice Scusate posso giocare con voi? E loro no non puoi giocare con noi E perché non posso giocare con voi? E loro è perché c'hai la faccia da culo E lui ma come la faccia da culo? Insomma va dal papà 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 i bambini mi hanno detto che non posso giocare con loro E il padre ma perché scusa? E perché mi hanno detto che c'ho la faccia da culo Ma no ma non ti hanno detto faccia da culo Carletto ti avranno detto faccia da gufo E Carletto ah faccia da cu 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 gufo? Sì Carletto faccia da gufo ti hanno detto Insomma vabbè dopo un po' ritorna Carletto dal papà 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 senti ma i gufini con le gufine fanno i gufinini? E il padre sì sì i gufini con le gufine fanno i gufinini Ah vabbè vabbè ritorna Carletto dopo cinque minuti Papà ma i gufinini con le gufineine fanno i gufinini? Dopo cinque minuti Carletto ritornava al padre Papà ma i gufinini con le gufineine fanno i gufinini? E il padre Carletto hanno detto faccia da culo sì faccia da culo Il padre Carletto è un po' ritorna